sono un nuovo serie per questo canale il mio nome è serie è un serie in episodio in mai canale però si va a dare un mini mod cuarmi ok bleh o... o... va pagare il nobte hai scuocò cosa così se lo pot presentare modul 8 non es un è però non il in il toate armele urcam non è semplice non lo vediamo un pic un pic menino i laso non lo stiamo Ecco, 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 ecco. Ecco, 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 ecco. Ecco, 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 ecco. un po' si pun coadizza ah ma io pe loco da trage cosa che c'era arma e sedeata n'am fost io, n'am fost io e questo? e questo? hai sa vi aratato e poi intrati in jos Ulla, ce ne faccio in mano? Ce straciamo? Sto facendo? E io s-a plonato. Nu stiu cum nu cade pe ondulò. PÈ! Ma a cazut pe niciun curzo. Ulla moide! Sper noi mulți pigmeni. Ia ca o tragem parma asta in sus. Sa iem daca... Am reusut si eu a... Ploie de sa ce ezi? Pe imen nu nimerim. Ulla! 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 Acum a carcat da. Acum am un sniper cu bombe. Asa? Da. 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 Nase bombenie si nu mor. Pai si iarba ma nu ai biti ma mare. Pai iarba ma muore. è il favorito te guardo un'altra e scappa di me bombardismant e attacassi minerale il boitt Grazie Daca era cineva aici non crede mai sprovizzati. Io non crede. Aoleo. Mai se incercam pe niste catari. Care si ofera volontari? Tu? Cine? Sa-ti acolo? A fai culmea sa nu nimeresc. I lauta si incercam pe niste. I am a fai caldita. Unh, 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 unh. Unh, unh. Unh, unh. a 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 episode special